Amici del SoftLibre Open Source, benvenuti o bentornati in questa 154esima puntata del Podcast di Marcos Box. E rieccoci qui in questa nuova puntata del Podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie nel mondo del SoftLibre Open Source. Questa puntata sarà brevissima, questa volta sarà veramente brevissima, so che lo dico ad ogni puntata ma questa settimana ci sono stati pochi argomenti da trattare sul blog. Ci riferiamo alla prossima settimana perché la prossima settimana avremo di parlare della nuova versione di Ubuntu Ubuntu 23.10 che verrà rilasciata giorno 12, quindi fra qualche giorno. Bene, iniziamo la puntata. Apriamo questa puntata parlando di Canonical con una notizia che riguarda lo Snap Store, una notizia particolarmente grave, specie perché è la seconda volta che succede una cosa del genere. Che cosa è successo? È successo che il team che si occupa della gestione delle applicazioni in formato Snap presenti sullo Snap Store ha deciso di cambiare la politica di revisione delle nuove applicazioni presenti sullo Store perché c'è stato un incidente di sicurezza, così è stato etichettato dal team che si occupa appunto della gestione delle applicazioni sullo Snap Store, che è avvenuto lo scorso 28 di settembre. Alcuni utenti hanno segnalato la presenza di applicazioni recentemente caricate sullo Snap Store che mascherandosi da applicazioni ufficiali agivano in maniera fraudolente, in maniera dannosa, rubando addirittura fondi dagli account degli utenti. In seguito a questa segnalazione il team dello Snap Store ha immediatamente rimosso questi pacchetti in formato Snap che non possono essere più scaricati o installati fortunatamente. E che cosa ha fatto e che cosa ha pensato bene di fare il team dello Snap Store? Ha deciso di imporre un requisito temporaneo di revisione manuale su tutte le nuove registrazioni di Snap con effetto immediato che prevede una revisione manuale da parte del team dello Snap Store prima che l'applicazione venga caricata pubblicamente sullo Store. Cosa poco furba secondo me è che i caricamenti e i rilasci e le revisioni degli Snap esistenti non saranno invece interessati da questa nuova politica di gestione degli aggiornamenti. Perché lo trovo scemo? Perché magari se la prima volta te la faccio passare buona io posso anche mettere successivamente un aggiornamento che va a comportarsi in maniera fraudolenta. Secondo me dovrebbero visionare costantemente anche i singoli aggiornamenti. Sì è un lavoraccio, però Canonical i soldini un po' ce li ha da parte e se vuole spingere sullo Snap Store deve un po' investire a mio avviso nella sicurezza. E questo problema con lo Snap Store è già la seconda volta che si verifica perché già nel 2018 c'è stato un incidente di sicurezza perché era stata pubblicata un crypto miner all'interno dello Snap Store. Evidentemente le decisioni prese all'epoca per cercare di rimare il problema non sono servite e il problema si è ripresentato. C'è da dire anche che questo problema della sicurezza dell'applicazione ce l'hanno anche i grandi del settore dell'esempio della telefonia perché spesso e volentieri si sente la notizia di Google ha rimosso X applicazioni dannose dal Play Store perché evidentemente il sistema della revisione delle applicazioni come viene gestito da Canonical e come viene gestito dall'Android è un po' da rivedere, un po' fatto con i piedi perché gli permetti prima il caricamento, controlli l'ASCII giusto per controllare due o tre fesserie e poi gli permetti di far quel che vogliono. A sto punto ben vengano i controlli un po' più severi che fa Apple per le applicazioni pubblicate sul suo store. Questo comunque poi ha suscitato questa notizia una discussione sulle pagine del blog perché diversi utenti si sono interrogati anche sul fatto che anche altri sistemi, anche altri formati di pacchetti anche per esempio i pacchetti flat or pack anche chi utilizza i pacchetti flat or pack a sto punto rischia grosso perché semplicemente anche in quel caso può essere caricata qualche applicazione malevola che può sfuggire alle revisioni, controlli anche se da quel che mi ricordo per le applicazioni flat tab c'è una revisione più stringente appena viene pubblicata quindi diciamo così tecnicamente dovrebbe essere più sicuro rispetto allo snap store voi che cosa ne pensate di questo incidente della sicurezza? contribuisce a rendervi più paranoici e più guardare di malocchio il formato snap o lo prendete come un incidente di percorso che può essere corretto in corso d'opera e può essere rimato per evitare spiacevoli incidenti in futuro oppure siete anche del terzo partito quelli che schifano i formati flat or pack schifano lo snap schifano gli app image e schifano anche i pacchetti cioè anche gli AUR le applicazioni installate da AUR perché diciamocelo anche in quel caso ci sono problemi di sicurezza come dicono i vecchi i vecchi pinguini quelli duri e puri quelli che utilizzano Linux da anni il miglior sistema di distribuire software resta sempre comunque quello presente nei repositori delle distribuzioni la vecchia maniera deb rpm che è quello più sicuro fatemi sapere voi che cosa ne pensate di che partito siete e lasciate un commento sulle pagine del blog e andiamo adesso a parlare di una delle derivate di Ubuntu più interessanti degli ultimi anni che diciamocelo non sta riscuotendo il successo che dovrebbe meritare sto parlando di Elementari OS che qualche giorno fa visto il rilascio della versione 7.1 questa nuova versione di Elementari OS si concentra principalmente su tre aspetti il primo è quello di fornire opzioni e funzionalità di personalizzazione che rilasciano la distribuzione più inclusiva e accessibile il secondo è quello di proteggere la privacy e assicurarsi che tutte quante le applicazioni funzionino con il nostro esplicito consenso e infine l'ultimo punto alla base dello sviluppo di questa nuova versione riguarda rispondere attivamente al feedback degli utenti con correzioni di bug modifica design e nuove funzionalità ma andiamo a vedere per sommi capi quali sono le principali novità introdotte in questa nuova versione la prima riguarda la gestione dei consensi su Elementari OS 7.1 è stato introdotto un nuovo pannello delle impostazioni chiamato Background Auto Start che avvisa l'utente quando le app sono in esecuzione in background e fa in modo che le app richiedano il consenso il permesso per potersi avviare automaticamente l'accensione del dispositivo ed è una cosa che trovo molto intelligente da includere all'interno della distribuzione c'è proprio un toggle rapido per andare a modificare questo all'interno sempre delle impostazioni troviamo anche una sessione che è un'opzione che gestisce invece il consenso alla connessione per la localizzazione quindi adesso quando un'applicazione utilizza la localizzazione e gli chiede l'accesso alla nostra posizione verrà mostrato un pop-up che ci chiede che cosa vuoi fare vuoi concedergli il consenso ad utilizzare la posizione oppure no e quindi anche in questo caso è una cosa interessante da vedere applicata su un sistema operativo è una cosa che nelle ultime versioni dei sistemi operativi mobile è diventata un po' ostata nelle ultime versioni di Android e nelle ultime versioni di iOS ma sul lato desktop a memoria mia non mi ricordo di aver mai vista una opzione del genere così ben fatta così ben pensata così come ben pensata è anche una modifica che è stata fatta all'App Center adesso su Elemental iOS 7.1 quando installiamo un'applicazione in formato Flutter Pack l'App Center che sarebbe lo storico dell'applicazione ci informa se quest'app per esempio può leggere la nostra posizione inviare notifiche avviarsi in background senza chiedere il permesso ci informa se l'applicazione può accedere ai cartelli di sistema oppure alla nostra directory home se possono leggere o scrivere impostazioni di sistema e ci informa anche della possibilità che questa applicazione può succedere tutta dalla sandbox e ottenere permessi avanzati arbitrari quindi è un livello di sicurezza in più che ci aiuta a ben capire come funzionano le applicazioni l'altra novità riguarda poi l'applicazione Housekeeping Housekeeping che cos'è? è uno spazzino digitale è un'applicazione che è stata introdotta in Elemental iOS 7 che serve per poi automaticamente cestino do god effetti temporanei secondo una pianificazione alla nostra scelta in Elemental OS 7.1 è stata aggiunta a Housekeeping la possibilità anche di eliminare gli screenshot vecchi quindi non vi ritroverete più come sottoscritto con cui intalate gli screenshot che avete memorizzato nelle vostre cartelle screenshot inutili che adesso Housekeeping vi darà tutto in ordine vi darà una bella pulita alla vostra distribuzione vi permetterà di recuperare spazio altra novità interessante è l'account ospite che è un account speciale che fornisce uno spazio temporaneo per le persone che normalmente utilizzano il nostro dispositivo per accedere al computer quindi quando avvieremo l'account ospite tutte le impostazioni e i dati di questo account verranno cancellate non appena ci disconnette questa è una funzionalità interessante per chi lascia il computer incusodito magari a casa viene qualcuno o poi dobbiamo prestare a qualche amico non c'è bisogno di entrare con il nostro account ma entrerà con l'account ospite e farà quello che deve fare per poi non lasciare tracce sul nostro computer prima ad inizio di questo spazio vi parlavo dei miglioramenti per quanto riguarda l'inclusività e non è quella cosa che pensate stavate pensando tutti quanti che di sicuro lo so già che avete fatto collegamenti strani con l'inclusività ma in questo caso l'inclusività per quanto riguarda le persone con disabilità visive perché le persone con disabilità visive hanno segnalato agli sviluppatori di Elementari S che per loro hanno una barriera enorme quando prendono in considerazione l'utilizzo di un sistema operativo open source e che spesso hanno bisogno di aiuto per installarlo adesso quando si avvia il supporto di installazione di Elementari S viene automaticamente riprodotto un messaggio audio che indica la scorciatoria da tastiera per attivare lo screen reader e lo stesso messaggio audio è disponibile anche durante l'installazione iniziale sono stati poi introdotti anche nuovi fit di visualizzazione che vengono in aiuto per le persone che hanno un deficit di percezione del colore i classici daltonici o magari persone che sviluppano deficit di percezione del colore a causa di malattie o dell'invecchiamento con questi nuovi filtri di visualizzazione che sono stati introdotti è possibile avere miglioramenti per aiutare persone affette da protanopia deuteranopia o tritanopia scusate se li pronuncio così ma li sto leggendo per evitare di sbagliare perché sono troppe arie di mezzo poi potrei dire cos'è che non fosse brutta le altre notità che poi troviamo all'interno della distribuzione riguardano le applicazioni quelle che fanno parte del pantheon delle applicazioni di elementari os web che è il browser web che è quello fornito da gnome è stato aggiornato all'ultima versione quindi adesso su elementari os la troviamo la versione 44.6 che apportano sostanziali miglioramenti alle prestazioni alla compatibilità con i standard web oltre che un nuovo popover per le password salvate c'è la possibilità anche di sincronizzazione con firefox il supporto alle web app la prevenzione intelligente con il tracciamento il tracciamento durante la navigazione che migliora la privacy durante la navigazione e altre funzionalità interessanti che sono state introdotte in questa ultima versione di web che troviamo preinstallata su elementari os miglioramenti poi sono stati fatti anche per l'applicazione mail che ha ricevuto una nuova serie di funzionalità e miglioramenti richiesti a gran voce dalla community andate a vedere l'articolo dedicato per maggiori dettagli perché ci sono una serie di screenshot che spiegano meglio quali sono le novità introdotte sono stati fatti poi dei miglioramenti anche nel gestore file che avviene l'introduzione di un nuovo menu nella barra delle intestazioni per fornire controlli e impostazioni a livello di app migliorare la rilevabilità di alcune funzioni che in precedente erano accessibili soltanto da scorciatoia e da tastiera come la funzione di zoom che possono ripete che adesso invece sono presenti direttamente come scorciatoia visiva introdotte inoltre la ridenominazione in blocco dei file una funzionalità molto utile se lavoriamo con vaste raccolte di foto fogli di calcolo altri tipi di file che vogliamo rinominare in blocco inoltre adesso possiamo condividere anche file con altri dispositivi tramite i bluetooth direttamente dal gestore file e sono state fatte poi qualche altra modifica qua e là sempre a file ci sono poi dei miglioramenti per code che sarebbe l'editor di testo avanzato che possiamo utilizzare anche al posto dei classici visual studio code per scrivere il nostro codice miglioramenti anche nelle applicazioni per riproduzione video e musicale miglioramenti poi nella gestione delle notifiche con l'indicatore delle notifiche che è stato migliorato e stato potenziato miglioramenti per quanto riguarda l'utilizzo delle VPN perché adesso l'indicatore di rete presente nel pannello ha ricevuto un redesign che migliora l'utilizzo delle VPN con appositi pulsanti per di attivazione e disattivazione con icone anziché con i classici interrotti quindi è più semplice andare a gestire le nostre VPN altri miglioramenti del design infine li troviamo anche nelle icone in diverse pagine delle impostazioni di sistema che sono state ridisegnate per migliorare reattività su dispositivi grandi e piccoli e quant'altro vabbè fatemi sapere voi che cosa ne pensate di Elementor OS se la utilizzate se avete intenzione di provarla so che molti di voi sono contrari a questa distribuzione perché la trovano una distribuzione vecchia la trovano un scimmiottamento di altri sistemi operativi proprietari e quant'altro a me sinceramente io non lo utilizzo più come distribuzione principale in passato l'ho anche utilizzata per diverso tempo non lo utilizzo più perché ci sono sempre le solite cose che non riesco a digerire tipo eh lo so il mio pagino fisso gli supporta gli indicatori di terze parti così come che ne so fa la stessa cosa fa anche il gnome però nel caso di Elementor OS la cosa è tutta motivata c'era mi sembra che in una un vecchio articolo di Marcosbox aveva anche rincato la spiegazione ufficiale di di Daniel Forè che spiegava perché non è stato introdotto il supporto delle icone di terze parti all'interno della te qui c'è una motivazione vera non come quella fargocca che di di gnome però ci sono alcune cose che non che non mi piacciono perché utilizzando principalmente il computer desktop sul fisso la gestione del touch cioè del touchpad e quant'altro quelle cose fighe che ci sono su Elementor OS non le sfutterei mai appieno quindi io sono per il punto e clicca e mi trovo meglio utilizzare altri ambienti desktop però devo ammettere come dicevo all'inizio spezzone trovo che molte delle cose che gli sviluppatori di Elementor OS vanno a approfondire sono interessanti sono ben pensate e sarebbe bello vedere una simile attenzione a determinati argomenti come quelli relativi alle persone con deficit visivo e quant'altro sarebbe bello vedere introdotti anche in altri desktop environment e altri distro e continuiamo anche in questa puntata a parlare di Gnus Mint nella scorsa puntata vi avevo parlato del rilascio di Gnus Mint Debian Edition 6 edizione con Debian basata su Debian di Gnus Mint che è il piano B nel caso in cui dovesse succedere qualche cosa a Ubuntu il team di Gnus Mint ha diciamo così una distribuzione per poter ripartire bene questa settimana invece arriva l'annuncio del rilascio dell'edizione Edge di Gnus Mint 21.2 Cinnamon quindi la versione con Kern Linux aggiornato della versione standard di Gnus Mint Gnus Mint Edge è rilasciato già da qualche anno a questa parte ed è una edizione di Gnus Mint basata sull'edizione principale quindi basata su Ubuntu e basata su Cinnamon che ha di differente rispetto all'edizione quella standard soltanto i Kernel include un Kernel Linux più aggiornato nella fattisplice questa nuova versione Edge di Gnus Mint 21.2 Cinnamon include i Kernel Linux 6.2 questa edizione è rivolta a tutti quanti quegli utenti che hanno un hardware recente che vogliono sfruttare pieno e che quindi hanno la necessità di utilizzare con l'ultimo Kernel disponibile novità interessante di questa nuova versione comunque basata su Kernel Linux 6.2 riguarda anche il fatto che è stato ripristinato il supporto per Secure Boot che non era inizialmente presente su Linux Mint 21.2 a dire vero è stato ripristinato anche sulle immagini ISO di Linux Mint di IBM Edition quindi già che si trovano hanno già andato tutte e due le distribuzioni hanno corretto il problema su tutte e due le distribuzioni e continuando a parlare di Linux Mint ci si sta interrogando o meno gli sviluppatori si stanno interrogando anche sul futuro delle GTK4 e di Lib Adwaita perché si stanno interrogando sul futuro di Lib Adwaita e GTK4 perché con il passaggio alla nuova versione di Debian per la base di ovviamente come base per Linux Mint e Debian Edition 6 gli sviluppatori si sono imbattuti in diverse applicazioni scritte per GTK4 che non si adattavano non si riescono ad integrare all'interno del sistema non si riescono ad integrare all'interno di Cinnamon vuoi perché sono state progettate interamente per il GTK4 vuoi perché alcune non supportano i temi facendo che sembrare del tutto diverse le applicazioni di sistema di Cinnamon e per ovviare momentaneamente a questo problema gli sviluppatori hanno deciso che hanno applicato questa correzione su Linux Mint e Debian Edition 6 cioè hanno rimosso quelle applicazioni interamente scritte basate su GTK4 e hanno poi riportato altre versioni a GTK3 quindi hanno fatto un lavoro di sono tornati indietro con versioni un po' più vecchie perché hanno fatto questo perché lo sapete gli sviluppatori di Linux Mint sono molto conservativi e quindi tendono a non introdurre stravolgimenti nel corso del sviluppo della distribuzione però questo problema va affrontato va affrontato perché andando avanti gli sviluppatori dovranno prendere una decisione su come gestire questa situazione a lungo termine e affrontare il problema prima del rilascio di Linux Mint 22 e sarà interessante vedere le decisioni che prenderanno gli sviluppatori di Linux Mint perché io spero spero perché anche sarebbe un lavoraccio spero che non che non decidano di forcare nuovamente il tutto per mandarsi tutto il parco il parco librie vecchio sarebbe un lavoro diciamo anche anti-economico dal punto di vista lavorativo io spero che in concomitanza del rilascio di Linux Mint 22 riusciranno ad affrontare questo sistema facendo la migrazione direttamente alle nuove librerie GTK4 anche se spero anzi sono sicuro che questa speranza sarà di sicuro ma riposta perché a meno di stravolgimenti non penso che il team di Linux Mint riuscirà ad affrontare una migrazione in così poco tempo però può essere pure che ci sorprendano all'improvviso e magari stavano già lavorando nelle secrete quinte per poter compiere la migrazione e stanno soltanto aspettando un buon motivo per farlo e vedremo nei prossimi mesi nei prossimi annunci quelli mensili da parte del team di Linux Mint che cosa deciderà di fare chiaramente le febbre il suo team di sviluppatori una svecchiata a cinnamon ci vuole datevi una mossa che lo potete fare e potete spaccare anche i cosiddetti a tanti altri desktop environment perché ci sono tanti tantissimi utenti che apprezzano cinnamon per come è fatto per le comodità che offre e come ultimo argomento di questa puntata c'è una video guida che ho postato sulle pagine di marcosbox ma anche sul canale youtube di marcosbox che spiega come utilizzare microsoft copaycott in italia su windows 11 grazie a un piccolo workaround si e non è un argomento che riguardante il mondo linux quindi potete saltare a piappare potete andare direttamente alle conclusioni di questa puntata al prossimo spezzone se invece però siete curiosi fateci un salto guardate questa video guida perché si rende necessario l'utilizzo di questo workaround per abilitare copaycott su windows 11 perché con l'ultima versione di windows 11 con l'ultimo aggiornamento di windows 11 che è stato rilasciato a fine mese a fine settembre è stata integrata all'interno del sistema operativo microsoft copaycott che è quella assistente virtuale basato su intelligenza artificiale che microsoft sta cercando di propinarci sui nostri sulle nostre versioni di windows 11 è però utile in alcuni frangenti ed è anche divertente utilizzarlo per generare testi e immagini non è nulla di non visto anzi su altri sistemi di intelligenza artificiale generative però averlo integrato all'interno del sistema operativo è comodo da un certo punto di vista però questa l'introduzione di copaycott sul territorio europeo è impedita dalle normativi stringenti europee per quanto riguarda il trattamento dei dati personali perché tutto transita per server che sono da l'altra parte dell'oceano e quant'altro quindi per noi utenti europei microsoft ha inibito questa funzionalità che non è pre accessibile in maniera automatica sui nostri computer diciamo così con questo piccolo workaround vi spiego come poter lanciare una singola istanza di microsoft copaycott anche se stiamo in italia con windows 11 io lo sto utilizzando copaycott per generare ecco nuovi loghi per marcosbox sto generando una serie di nuovi pinguini di nuovi loghi del blog perché sto generando una serie di nuovi pinguini perché principalmente sto cercando di di fare un restyling del sito che vede un nuovo pinguino una nuova mascotte con un nuovo scritto e anche con un nuovo tema spero se tutto va bene entro la fine dell'anno di effettuare finalmente la migrazione da blogger a wordpress e quindi di ristrutturare tutti i siti con un nuovo tema un nuovo mascotte e quant'altro per dare una svecchietta al sito sapete che io in passato cambiavo tema una volta alla settimana così come cambiavo distribuzione nell'ultimo tempo mi sono un po' redato anche vuoi per impegni personali vuoi anche per il fatto che diciamo così i temi gratuiti per per blogger si scarseggiano e quindi è quindi un casino ogni volta cambiare tema per proporre qualcosa di nuovo più funzionale non che non mi piace il tema attuale non per carità è un tema ben fatto però con una serie di modifiche che ho dovuto apportare io per farlo calzare a pennego per la mia situazione lo vedo un po' raffazzonato ci sono diversi bug che ancora non riesco a sistemare sia nella stesura dei testi che in alcuni elementi che non riesco a posizionare correttamente e quindi l'unico modo per poter fare un lavoro pulito è quello di sfanculare blogger passare a wordpress fare tutto da zero e cercare di andare a combare tutti quegli elementi che non funzionano sul sito quindi a me piace il mio sogno è quello di offrirvi un sito veloce sia da mobile che da che da desktop che attualmente non è non è veloce page speed a rank speed come cavolo si chiama di google mi dà una serie di di warning è un punteggio orribile e devo vedere di sistemare vabbè chiusa chiusa la parentesi fatemi sapere voi che cosa ne pensate di copilot se lo utilizzate se vi sembra una cosa figa che da avere all'interno del sistema operativo insomma lasciate un commento ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 154esima puntata del podcast di marcosbox vi ricordo come sempre che potete seguirmi sulle principali piattaforme social mi trovate su facebook mi trovate su x mi trovate su youtube mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su spotify su amazon music su apple music su google podcast mi trovate su linkedin mi trovate su mastodon mi trovate su principalmente su telegram con dove sono ad attivo tre canali c'è un canale principale dedicato alle notizie un canale dedicato alla community telegram di marcosbox dove potete parlare di tutto non soltanto di linux trovate poi un canale telegram dedicato alle offerte amazon mediante il quale potete acquistare prodotti da amazon utilizzando i bio link affiliazione e supportare così il blog potete supportarlo anche acquistando direttamente utilizzando il mio codice referral marcosbox21 che trovate linkato sull'home page del blog e vi ricordo che fra qualche giorno ci sarà anche il prime day quello di ottobre 10 e 11 se non ricordo male e vi invito se dovete acquistare qualcosa a utilizzare il mio codice referral in modo tale da poter supportare il canale infine infine vi ricordo che potete supportare anche il canale mediante l'acquisto di una vpn a scelta tra surfshark atlas vpn e nord vpn su marcosbox trovate un articolo che vi spiega quali sono le principali differenze tra queste vpn e trovate i miei tre link referral bene con questo qui è tutto e ci rascoltiamo la prossima settimana lunga vita e prosperità a tutti quanti ciao ciao ciao